E' stata lanciata ufficialmente la stablecoin di Tron dal nome USDD che promette un APY del 30%, ne parliamo in questo breve aggiornamento. Ciao traders e bentornati sul canale di webeconomia.it, oggi parleremo di un argomento di attualità che riguarda la blockchain di Tron, la stablecoin USDD è stata lanciata ufficialmente sulla blockchain appunto di Tron Network, si tratta di una stablecoin algoritmica il cui prezzo viene mantenuto legato al dollaro attraverso il token TRX. In descrizione vi lascio tutti i riferimenti e i links ai vari siti per approfondire. Potete trovare la notizia del lancio di USDD sul nostro sito in cui abbiamo fatto anche un approfondimento sul sistema di Tron, quindi sulla blockchain di Tron Network. Che cos'è Tron? Tron è una blockchain decentralizzata che supporta lo sviluppo di smart contract in modo veloce e con commissioni basse. La sua criptovaluta è TRX. Tron si pone l'obiettivo di creare piattaforme per supportare la condivisione di contenuti di intrattenimento in modo decentralizzato e sfruttando le connessioni peer-to-peer. Tron è stata fondata da Justin Sun, un personaggio eccentrico che fa parlare di sé molto sui social e che è uno dei personaggi più influenti del marketing moderno, un po' come Elon Musk per Dogecoin. Come vedete in questo tweet da parte del team è stata lanciata ufficialmente USDD che sta per Decentralized USD. È una stablecoin algoritmica che si pone l'obiettivo di far partire l'era 3.0 per quanto riguarda il mondo delle stablecoin. A seguito di questo lancio Tron ha avuto un nuovo slancio finendo nella top 20 delle criptovalute più capitalizzate con rialzi superiori al 30%. Secondo gli ultimi dati con lancio di USDD coin, che è possibile trovare sul sito usdd.io, sono stati emessi più di 100 milioni di token sulla blockchain di Tron. Grazie a questo lancio il prezzo di Tron è cresciuto facendo arrivare la coin tra le prime 20 per capitalizzazione. Solo nelle ultime 24 ore ha avuto una crescita di oltre il 7% e addirittura del 30% se guardiamo i dati dell'ultima settimana. Il sito ufficiale è usdd.io. Usdd è una stablecoin algoritmica simile a UST per Terra, il cui PEG viene mantenuto con un meccanismo di siglionaggio col token TRX dell'ecosistema Tron, un po' come avviene con Terra USD, il cui prezzo viene mantenuto a un dollaro aumentando o diminuendo la supply, bruciando cioè l'una attraverso meccanismi di incentivi. USDD funziona in modo molto simile, cioè brucia TRX per mintare o generare USDD. Nel white paper che troviamo sul sito leggiamo che la fornitura del circolante di USDT di tipo TRC20, cioè i token della rete Tron, hanno superato quelli di USDT in versione RC20, cioè sulla rete di Ethereum, attestandosi a 41 miliardi di dollari. Sul profilo ufficiale di Twitter possiamo leggere tutte le notizie su USDD, in particolare nel white paper leggiamo che è stata istituita la Tron DAO Reserve, la prima riserva decentralizzata che sarà a supporto di USDD. La DAO raccoglierà circa 10 miliardi di dollari come è scritto nel paper che vi invito a leggere in Bitcoin ed altre criptovalute. La cosa interessante che leggiamo nel white paper è questa parte che ho evidenziato in cui leggiamo che la Tron DAO Reserve fisserà un tasso di rendimento al 30% di USDD, quindi questa stablecoin potrebbe diventare di fatto un concorrente agguerrito di altre stable. Pensiamo ad esempio a UST che attualmente su Anchor Protocol garantisce un rendimento del 18% circa dopo gli ultimi aggiornamenti. Tuttavia Tron non è stata in questi anni una blockchain molto utilizzata per via dei casi d'uso praticamente inesistenti. Ma torniamo sul sito di USDD e qui possiamo vedere che il token di USDD è stato lanciato su Ethereum e sulla Binance Smart Chain che ora vi ricordo si chiama BNB Chain. I primi protocolli ad aver listato questa coin sono Ellipsis Finance e SunSwap. Sono stati i primi ad aver quotato USDD in pool con altre stablecoin. Se clicchiamo ad esempio su Stake to Earn possiamo vedere che è già possibile utilizzare questa stablecoin aggiungendo liquidità oppure in pool con altre stablecoin. Qui vedete tutte le informazioni come il contratto, il TVL, l'APY eccetera eccetera. Altro protocollo su cui è possibile usare USDD è SunSwap. Se clicco su Stake to Earn possiamo vedere che ci sono già delle pool del tipo USDD TRX con degli APY molto interessanti. Per il momento è possibile trovare USDD su questi protocolli. Nei prossimi giorni sicuramente verrà listato da altri exchange utilizzato in tante altre applicazioni decentralizzate. Non sappiamo quando partirà questo famigerato 30% di APY. Se non sapete come funziona l'APY vi lascio qui sopra un video in cui ne abbiamo parlato poco tempo fa in modo approfondito. Per il momento è possibile acquistare USDD solo facendo uno swap ad esempio con Tether. Che cosa bisogna fare ora con Tron e con USDD? Vi ricordo che questi non sono dei consigli finanziari e di fare le vostre ricerche e le vostre valutazioni personali prima di investire in un qualunque progetto. Evitate di farvi prendere dall'ansia o di seguire progetti di cui si parla troppo. Prima di investire valutate bene vantaggi e rischi e fate ovviamente le vostre analisi e ricerche. Tron non è stata molto utilizzata in questi anni dunque probabilmente bisogna valutare per bene cosa fare soprattutto per alcuni annunci come il rendimento del 30% senza rischi che mi sembra esagerato. Nessun investimento o trading può essere considerato sicuro ed esente da rischi. Fate dunque le vostre ricerche senza farvi influenzare. Nel profilo ufficiale della Tron DAO Reserve potete vedere gli annunci relativi a USDD ad esempio la roadmap con gli ultimi aggiornamenti che saranno introdotti nelle prossime settimane. Tra le ultime notizie interessanti l'ingresso di Alameda Research un'azienda molto importante che sappiamo essere coinvolta in molti progetti importanti come ad esempio l'exchange FTX. Dunque non ci resta che attendere gli sviluppi di questa Stablecoin. Bene siamo arrivati alla fine di questo video abbiamo visto brevemente che cos'è la Stablecoin USD del Network Tron e le ultime notizie. Vi lascio naturalmente i link in descrizione sul sito e tutti i riferimenti ai siti per comprare criptovalute ed accedere ai vari servizi. Naturalmente vi invitiamo a iscrivervi al canale, a mettere mi piace, attivare le notifiche per rimanere aggiornati e lasciarci i vostri commenti. Se siete interessati ad altri contenuti o volete approfondimenti su Tron di questo tipo scriveteci pure. Vi ringrazio per l'attenzione, ciao e al prossimo video!